Allora Matteo che cosa abbiamo qui? Eh guarda con 150 euro tu ti porti a casa una forma di formaggio in triago fatto da noi nelle nostre marchi e su in grappa. Pensate 150 euro, uno intero di questo che sarà almeno 28 centimetri di piatto. Anche 32 euro, perché noi qua dalle nostre parti non abbiamo mica problemi, questo qua pesa quasi 15 kg. E se comprate questo vi diamo in omaggio questo formaggio della... No quello no, questo magari, vediamo questi due formaggi, ti dai un po' troppo allargato Nelly, non c'è... Vediamo questo! Questo! Con questo comprate questo formaggio. Eccolo qua. E tutto compreso con questo ha anche l'etichetta. Lo dice anche Nelly, ecco. Esatto. Grazie. La vita è una gabbia di leoni e io sono il miglior domatore sulla piazza.